Questa direttavamo... ...cambi come si rinforzi... ...e... 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 ...cessi... ...cassi che... ...bacarri non ne scampi... ma però c'è la tua c'è la torre là, è la torre feodale la torre feodale questa è la torre feodale è la torre feodale la torre feodale è bella che bello qui bello, bello così bello, bello così bella, bella Grazie.